Musica 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 Benvenuti ragazzi in questo nuovo video ma che ti stira a chiudere diciamo? fa sezi stira a chiudere dato che non abbiamo appoglato se funzionano i joystick allora giusto non funziona ma non funziona ma non funziona sono scherzato banni eh time tipo ghostbusters per noi time è obbligo quando dici ghostbusters devi fare ghostbusters non gioca in inglese two player guarda che camminiamo ti muove e faccio pure le giro no dai camminiamo insieme mi ricorda i tasti ok si cosa stai facendo? perchè mi vengo a fare? oh andiamo 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 che dice la vecchia molto utile la vecchia di merda metti quello che sono io rimani fermo? guarda ma che cattico ma che micchia stai succedendo? perchè? per quale motivo? modi nel pavimento no 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 sei una merti stai scusa non ci ho camminato io sei tu sei messo la in punta di pizza di merda ok qua andiamo oh finisimo minchia un pa minchia un pa vieni qua vieni tu sei più bella voce no non ho fatto niente ho sbagliato io ci faccio io io qua minchia un po' le palle allevati ci devo salire ma perchè si aggappa alla sporgenza? lascialo bravo bravo un po' c'è un mito ma l'abbiamo presa ecco no 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 c'è un bestiale grosso oh non vedo non vedo non vedo mi prende i miei ammazzati addio scappa scappa dove caccia ma caccia ma caccia ma è un uomo piccolino mi vuole ammazzare porca andiamo via che questo che è troppo per power sono un boss di dark soul fai la legge della libertà di New York al limite è salto di nuovo poi no 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 sia fermo no no salta salta si palla salta 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 nelle cascate ci sono le cose belle lo dobbiamo far stancare capito farlo stancare che gli do un caccio in culo bravissimo ah pò c'è ancora ha fatto cadere qua che schifo ma che cazzo ma cosa faccio ti attacchiamo ma perchè che mi impalo al coso vabbè vabbè guarda guarda è sempre il gioco mamma mia compà quando abbiamo fatto il gioco di squadra ma non si ricorda niente ma manco io poi mi ricordo che si si 10 caro e di quando la facendo sotto ma compa massacriamo chi siamo noi il gioco il gioco il gioco il gioco dov'è difendi qual'è la nostra protesta di qua dietro si difendi la prendi guarda davo come si tira col cerchio ah te la passa ah no allora è col quadrato è col quadrato col quadrato tira ah no è lisciato vai 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 passa passa oh no ma il blocco io mezzo di merda acqua coppa chiacchia mia tuo tuo tieni che cacchio lascia la pezza di merda vai tirala tu tirala tu ti ha l'occasione out no tira la mano ah no ah perché lo miro io ma va devi direzionare ma sei scena se la vai se la va passa 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 come si passa col cerchio col cerchio non la passa la lascia la lascia la lascia ti giuro dov'è non lo io merda non è perché non si vuole guarda 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 vai mica la botta che poco fa va bene a finirci veloce ma la prende così come la prende come la prende prende ci rende incontro la prende la ciotola merda vai buf ma perché devi sempre fuori ma che fatta guarda guarda quello che si mette in porta visto che me l'hai passata DALLA 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 che è DALLA DALLA PAS visto ma ma ce l'hai sentita ma va che tu non puoi fallire DALLA 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 così si va e segna Jordan per i mondiali vai l'attacco vai l'attacco vai l'attacco lo puro faccio il bullo DALLA 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 e ciò che alla davanti le ti arriva 10 ma che ne so facciamo la tua goal ma questa dovrebbe appendere sempre da questo non ce l'ho toga gold ma è schifata passa passa vada triangola dalla aspetta salta salta bravo ooooh ooooh manco di che no 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 ora dimmi ci lasci per tempo guarda che quello è andato a differenza l'ho preso ma dai dai ma c'era no ma non c'è non c'è la paura ma c'è ci ma me la prega me la prega compai che ha andato molto me l'ha rubata dalla mano ma che palle stronzo 3 2 carote 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 si gira la visuale così ma che cazzo vai va finì adesso gira in mezzo vabbè dai guardiamo qui vai ora funziona vai salta gal ok l'hai fatto due grazie adesso mi sento molto bene allora questo era bug bunny e tags altro quarto episodio della rubrica ps1 tanto mi si vede sempre il prato dalla bocca il prossimo gioco sarà un picchiaduro ve lo diciamo in anteprima quindi non ci resta che dirvi che se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi condividete il video con i vostri amici da michele salvo tags e bunny o bugs e tanni bugs e tanni è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti